Siamo arrivati all'uscita di Villa Marzana Rovigo Sud. Secondo me fra dieci minuti riapriranno l'autostrada e allora che dobbiamo fare stare qui ad aspettare o metterci, aspetta, stiamo qua, fare un po'. Fare inversione e stare qui ad aspettare o io per il momento faccio O che ha combinato il Polacco. No, no, lui non c'entra. No, no, lui non c'entra. No, no, lui non c'entra. No, lui non c'entra. Va bene, facciamoci anche questa deviazione qui. Non è la prima volta che appena 13 chiudono il tratto di sotto perché chiudono per lavori la notte e ti ritrovi alle 2 di notte, alle 3 di notte a fare la statale 16 o un po' di paesini, e poi ciò che si tratta di sotto. No, non c'entra. 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 guardate la pesca se quel display è aggiornato oppure no. no, non c'entra. No, non c'entra. Adesso siamo qua. E qua andiamo. Grazie a tutti. Sono già le 7.75, ci picchia, ci picchia, ci picchia, ci picchia. Grazie a tutti. 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 Il navigatore dice di fare tutta la rotonda e tornare indietro. Non lo dice perché l'ho zittito. Però dice che bisogna fare tutto il giro e ritornare indietro perché lui mi fa riprendere l'autostrada lì a Villa Marzana. E' un'altra parte qui è un'altra parte. E' un'altra parte qui è un'altra parte qui è un'altra parte qui è un'altra parte. E scommetto che un po' della gente che è lì che vorrebbe entrare in rotonda si sta chiedendo ma perché tutto sto casino? Cosa è successo? Vabbè, a dopo ragazzi La rotonda l'abbiamo fatta Adesso continuiamo a farci La coda Vabbè, a poi perché tanto qui C'è da vedere solo Il posteriore Del bilico Carico di rifiuti Ma poi Allora C'era un semaforo Che causava Un po' di casino Ovviamente quando diventa rosso Adesso Siamo alla rotonda qua Ma la rotonda Si lascia scorrere abbastanza bene Purtroppo Qui si fa sempre più tardi Vabbè, adesso Lui dice alle 9 e 10 Ma poi fa Un altro giro Mi fa entrare dentro a Rovigo Un centro città Che non Non penso proprio Lì c'è un semirimorchio Che ha preso fuoco Deve essere quello che ha bloccato l'autostrada Lo hanno rimosso Adesso Lo hanno rimosso Adesso Il baracchino Non si sente dire nulla Se hanno già riaperto o no Ma Se ha preso fuoco Che era Anche solo in corsia di marcia Dovranno Prima Fare Delimitare il cantiere Per riasfaltare L'area Dove Dove Si è Incendiato Il bilico Per cui Almeno 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 Credo che Ci saranno dei problemi Anche di là Dopo Oltre a quelli qua Per noi Avranno problemi Anche di là A fare Ad andare In autostrada Di nuovo tutti fermi Appassionatamente Bene C'è un altro semaforo No Vabbè Comunque ragazzi A dopo Allora Siamo ancora Fuori dall'autostrada Non siamo ancora rientrati Come si vede Siamo usciti Siamo fuori Rovivo Siamo a Boara Pisani Anzi abbiamo passato anche quella Adesso Giriamo qua A prendere l'autostrada E' lo stesso giro che dice il navigatore Da questa parte Cioè Non è che dice il navigatore L'autostrada E' qui Quella lì davanti E' l'autostrada Adesso Adesso Non diciamo delle stupidaggini Stavo Questo giro Ora Non gli ho dato retta prima E' che ho tirato dritto E mi ha portato Al casello Facendo la statale 16 Ma per me non gli ho dato retta prima Altrimenti mi ci faceva arrivare da chissà dove L'autostrada è stata riaperta Come si può ben vedere Arrivano tutti Ho avvisato in ufficio Che facevo tardi Hanno detto che avvisano Lì a dove devo caricare Che faccio più tardi Adesso Possiamo riprendere la corsa Siamo rientrati in autostrada Adesso Come dicevo mio amico Gas a martello Con il cancello Ehi vieni un po' più in qua Ops Siamo già in coda Si Lavori a 3 km Possibili code Si La coda è già fatta Ci risiamo Ci risiamo Giusto per non perdere il vizio Vai Ciao a poi ragazzi